Questo è il punto più critico, perché c'è gente che vuole entrare di là, e altri di là, e quindi come vedete si sta strettissimo, bisogna spingere un po', e via, e via andare, e via andare, spingere. Vedete la c'è tutta la gente, perché mi sta guardando anyhow, vedete già mi sono guadagnato un bel pezzo di strada, ci vediamo dopo.